a tutte e a tutti sono alberto la torre formatore consulente filosofico e in questo breve video voglio darti la mia personale spiegazione di che cosa siano le pratiche filosofiche perché nonostante negli ultimi anni si siano diffuse in più ambienti e settori passando dalle aziende e alle scuole da un lato c'è ancora molta confusione su che cosa esse siano e su come funzionino e dall'altro mettono una certa soggezione in chi vi si avvicina o è invitato a parteciparvi quando le persone mi chiedono che cosa siano le pratiche filosofiche rispondo loro che sono una palestra una palestra del pensiero come si va in palestra per allenare specifici muscoli facendo esercizi mirati i laboratori di pratiche filosofiche sono un modo per allenare il proprio pensiero in particolare nelle sue diverse facoltà le facoltà in cui si manifesta e cui solitamente lo usiamo la riflessione la critica la fantasia l'immaginazione l'associazione la deduzione i processi deliberativi e molto altro ancora se in palestra ci si allena con attrezzi e macchine specifiche nei laboratori di pratiche filosofiche gli strumenti per esercitare il pensiero sono fondamentalmente il dialogo con le altre persone a partire dall'ascolto e dalla riflessione nella duplice convinzione che come sosteneva da un lato emmanuel levinas un filosofo francese di origine ebraica il pensiero dell'altro mi apre un pensiero di cui non ero capaci e dall'altro lato come affermava Socrate il padre della filosofia e per certi versi delle pratiche filosofiche sa che la filosofia nasce come pratica di vita innanzitutto dicevo Socrate affermava che la verità è un progressivo svelamento dell'opinione possibile solo attraverso il dialogo letteralmente dia ovvero attraverso il logos vale a dire il pensiero il discorso la parola come accade in palestra allenando gli specifici muscoli si guadagna in benessere generale qualunque sia la declinazione di benessere forza resistenza postura tonicità e via discorrendo così allo stesso modo nei laboratori si acquisisce più chiarezza rispetto alle tematiche esaminate maggiore consapevolezza di sé del proprio pensare nonché del proprio agire del proprio essere del proprio stare nel mondo con grande libertà e responsabilità e soprattutto senza il timore di venire giudicati da nessuno né come si è né per come si pensa ammesso che le due cose siano poi tra di loro così distinte l'altro grande dubbio di colore che si avvicinano alle pratiche filosofiche è legato appunto alla partecipazione spesso si teme infatti che per poter partecipare a un laboratorio di pratiche filosofiche sia esso un dialogo sottratico o una comunità di ricerca bisogna essere filosofi di professione o quantomeno aver studiato filosofia se non all'università al liceo beh niente di più sbagliato per partecipare ai laboratori di pratiche filosofiche è sufficiente essere persone perché come tali si è naturalmente filosofi mi spiego meglio tutti noi ci facciamo domande nella vita a partire banalmente da quelle più pratiche del tipo che vestito indossare questa mattina che cosa mangiare per cena come fare con nostro figlio o con il nostro collega che non ci ascolta in altre parole quando ci poniamo queste domande ci stiamo domandando ci stiamo chiedendo chiaramente a diversi livelli che cosa è meglio per noi per i nostri cari che cosa è giusto fare come si può essere più felici sereni in pace con noi stessi e con gli altri e la filosofia è innanzitutto il porsi delle domande rispetto alla vita e cercare di rispondervi anche perché fondamentalmente e questo è un secondo aspetto ciascuno di noi non solo si fa domande sulla vita ma ha una propria filosofia di vita ciascuno di noi ha delle idee dei valori che cerca di affermare nella propria vita nella propria esistenza attraverso le scelte i comportamenti le decisioni che assume e paradossalmente anche chi sostiene che la filosofia non serve sia inutile a una sua propria filosofia ovvero che la filosofia magari come spesso viene fraintesa ovvero nei termini di riflessione astrazione o sperdersi coi pensieri tra le nuvole non serva per vivere bensì nella vita costoro magari sostengono che serve agire anziché pensare parlare bene anche costoro hanno una propria filosofia di vita anche loro seguono idee valori appunto quelli dell'agire anziché del fermarsi a riflettere pensare il tutto sta a esserne consapevoli ciascuno di noi ha una propria filosofia di vita ecco allora in sintesi che cosa sono per me le pratiche filosofiche in primo luogo una palestra in cui esercitare attraverso il dialogo e gli altri il proprio pensiero per allenarlo tonificarlo renderlo agile e resistente alle sfide della vita perché ciascuno di noi appunto è filosofo sia nel senso che si pone domande su come sia giusto vivere su come valga la pena impiegare il proprio tempo su come cercare di essere più sereni e felici sia perché ciascuno di noi ha una propria filosofia di vita bene spero di essere stato chiaro ed esaustivo fammi sapere nei commenti se secondo te ci sono effettivamente riuscito e soprattutto condividi il tuo punto di vista rispetto alla tua esperienza se ne hai di pratiche filosofiche oppure rispetto alle riflessioni che ho provato a sviluppare in questo breve video grazie e alla prossima ciao 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 ciao